Economia sotto scacco, record negativo per la Calabria, la nostra regione al primo posto per numero di infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno del tessuto produttivo e quanto emerge da uno studio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il pasticciaccio della regione sul decreto 30, dopo che il Dipartimento della Presidenza ha impugnato l'opposizione di alcuni comuni al riordino della rete ospedaliera varato dal commissario Oscura, fortemente osteggiato dal governatore, il Presidente Oliverio corregge il tiro. Io sto con i sindaci, pronta la rotazione dei dirigenti responsabili. Una veglia per le vittime del mare, cristiani e musulmani uniti in preghiera a Reggio Calabria per ricordare i migranti arrivati morti domenica a bordo della nave verga della Marina Militare, solo l'ultima tragedia in ordine di tempo. Per un calcio più sicuro, l'Associazione Italiana Allenatori della Calabria ha consegnato defibrillatori ad alcune scuole calabresi. Ecco la nuova Serie C, prima riunione ufficiale tra i club di terza serie, delineata la nuova strada. Date le prime indicazioni, già escluse le squadre B. Si tornerà a 60 società, strutturati i pacchetti per vedere in esclusiva tutte le partite. Buongiorno di Milia Canonaco e benvenuti a questa nuova edizione del nostro giornale. L'economia calabrese, lo avete appena sentito dal sommario, purtroppo è sempre più infiltrata da parte della criminalità organizzata. E questo quanto emerge da uno studio che è stato condotto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. I ricercatori hanno comunque preparato un vademecum rivolto a tutte quelle imprese che, nonostante le difficoltà oggettive, definiamole così, decidono comunque di investire nella nostra regione. Ancora un primato allarmante, ancora una maglia nera da cedere appena possibile. La Calabria è la prima regione del paese per infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale. E' insomma la più vulnerabile all'inserimento di forme di criminalità all'interno di settori legati all'imprenditoria. A dirlo è Crime Tech, uno spin-off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che trasforma l'attività scientifica di Transcrime, il centro di ricerca di criminologia dell'Ateneo Lombardo, in una piattaforma ad uso e consumo di aziende e denti pubblici. Lavorando su alcuni parametri, incrociandoli con altri indicatori, l'Università ha messo a punto una vera e propria mappa del paese, a disposizione di tutti coloro che vogliano investire ed avere un'idea della permeabilità dei territori. Se la Calabria domina il paese tenendosi stretto un primato decisamente negativo, nel nord Italia è imperiale vittima privilegiata. I settori più a rischio sono quello dello smaltimento dei rifiuti, il settore commerciale con particolare riferimento agli alimentari. Uno studio utile, quello elaborato dallo spin-off milanese, che si va ad incastrare con la quarta direttiva dell'Unione Europea Antiriciclaggio, che prevede che siano sempre più coinvolti nelle attività preventive banche e altri soggetti, come notai, commercialisti, agenzie immobiliari, che devono effettuare una valutazione del rischio per i propri clienti. Tiziana Bagnato per la CNews24. Dall'economia malata alla sanità, il Presidente della Regione, Mario Oliverio, non ha mai fatto mistero di non approvare il cosiddetto Decreto 30, a firma del Commissario Oscura, che riorganizza la rete ospedaliera. Una posizione, la sua, che a quanto pare non è stata tenuta in minima considerazione dall'Avvocatura regionale, che ha deciso di opporsi ai ricorsi presentati da diversi comuni proprio nei confronti di questo decreto. Adesso il Governatore aggiusta il tiro e dice io sto dalla parte dei sindaci. Nessun pastrocchio di legge, nulla di giustificabile, almeno così sembrerebbe da paradossi legali, ma invece un mal riuscito tentativo da parte dell'Ufficio del Commissario d'Acta alla Sanità di creare confusione e portare acqua al proprio mulino. Il giorno dopo la notizia del ricorso da parte della Regione Calabria contro il Decreto 30 sulla riorganizzazione ospedaliera, accompagnato allo stesso tempo dai controricorsi verso i comuni che sullo stesso provvedimento avevano fatto appello, il Governatore Oliverio fa chiarezza così e non si limita a denunciare quanto accaduto. Ma andiamo con ordine. Secondo l'ex Presidente della provincia di Cosenza, i controricorsi ai comuni sono il frutto dell'uso improprio da parte dell'Ufficio del Commissario Oscura di documenti che nella realtà non sarebbero stati né sottoscritti né condivisi dal dirigente generale del Dipartimento. Un'accusa grave a cui seguirà una denuncia, avverte il Governatore, che è anche poi disposto l'immediata rotazione dei dirigenti regionali all'interno del Dipartimento Tutela della Salute e la sostituzione del coordinatore dell'Avvocatura regionale. Intanto, già dall'udienza di oggi davanti al TAR, la Regione procederà contro il decreto sulla riorganizzazione ospedaliera, mettendo a tacere le voci di chi in questa vicenda dei contorni pirandelliani aveva visto un accordo sotto banco tra Oliverio e Scura. Tiziana Bagnato per la CNews24. Voltiamo pagina e occupiamoci ora di immigrazione. Quando da una nave militare, come è successo nella giornata di domenica a Reggio Calabria, vengono fatti scendere i cadaveri di decine e decine di persone, tra cui quelli di donne e bambini, qualsiasi forma di distinzione, anche e soprattutto di natura religiosa, viene meno. E così, nella città dello stretto, cristiani e musulmani si sono uniti in una silenziosa veglia di preghiera per ricordare queste vittime innocenti, persone che hanno perso la vita nel tentativo di realizzare una vita migliore. Sentiamo. Si sono mossi in preghiera, uniti nel dolore, i cristiani e i musulmani di Reggio, ieri sera. Dalla chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio si sono mossi a piedi, con le fiaccole accese e una croce con 43 chiodi, tanti quante sono le vittime, verso il reparto volo della polizia, dove le salme si trovano temporaneamente. Un modo per ricordare i nuovi naufraghi di quello che ormai è l'olocausto del Mediterraneo. Ecco come la città ha deciso di reagire al terribile risveglio di domenica, quando nella festa del Corpus Domini, al porto sono giunti i corpi che il mare ha restituito dopo la tragedia di sabato. In marcia, accanto al vescovo Giuseppe Fiorini Morosini, anche i rappresentanti della comunità islamica di Reggio, ma anche i laici, membri delle associazioni e semplici cittadini. Nel giorno del Corpus Domini, ha affermato Donnino Pangallo, direttore della Caritas di Ocesana, il signore ci ha visitato nei corpi trafitti dei migranti, nelle 36 donne e i tre bambini morti in questa tragedia. Francesco Creazzo per la Cineus 24. La campagna elettorale è in corsa a Cosenza per le amministrative del prossimo 5 giugno, incrocio alla cronaca. Uno dei candidati alla carica di consigliere comunale, lui si chiama Francesco Mercurio, è stato destinatario infatti di una busta contenente un proiettile. L'accaduto è stato prontamente denunciato alla Procura Abruzzi. Sentiamo. La Procura ha aperto un fascicolo per indagare sul proiettile recapitato ieri a casa di Francesco Mercurio, candidato al Consiglio Comunale di Cosenza, per la lista Oltre i Colori, a sostegno di Carlo Guccione. Un episodio denunciato immediatamente ai carabinieri, mentre sono in corso gli accertamenti di rito sulla cartuccia, anche di carattere scientifico. Il candidato a Palazzo dei Bruzzi non ha dubbi sulla matrice politica della intimidazione. Io alla fine non ho alcun altro motivo per pensare altre strade. Scarto la pista della criminalità organizzata perché non ho mai avuto alcun legame, quindi non penso assolutamente sia inerente a questo discorso qua. Penso che la pista sia politica. che hanno voluto farmi capire che forse devo stare più cauto nel parlare, ma io non mi fermo, non mi arrendo e vado avanti per la mia strada. Anzi, da domani continuerò a fare il tour dei quartieri che avevo già iniziato e che riprenderò con più slangio. E come ho detto anche a più amici che mi hanno chiamato per mostrarmi la solidarietà, la mia scorta saranno i cittadini. Salvatore Bruno per la CNews 24 Ed è proprio sulla città di Cosenza che la puntata odierna della trasmissione Fatti in diretta, condotta e curata dal collega Pietro Comito, accenderà i suoi riflettori. Buongiorno Pietro, il titolo da te scelto è L'altra Cosenza. Perché? Che altra Cosenza ha intenzione di raccontarci? Sì, parleremo dell'altra Cosenza, una Cosenza nascosta, una Cosenza della quale non si parla, si parla pochissimo. Si tratta della Cosenza nel centro storico dimenticato, la Cosenza degli umili, degli ultimi, quella dei quartieri considerati quartierighetto. Lo faremo con dei colleghi giornalisti che possono dare da diverse angolature il loro punto di vista per cercare di rendere più completa la conoscenza a coloro i quali saranno chiamati a pronunciarsi nelle urne, ovviamente domenica prossima. e sarà, come dire, l'anteprima elettorale di questa nostra trasmissione che andrà in onda anche domenica sera e anche lunedì mattina per quella che sarà la grande maratona elettorale che dedicheremo a tutte le amministrative, non solo a quelle di Cosenza e di Crotone, ma di tutti gli 88 comuni calabresi chiamati appunto al voto. Uno speciale dei fatti in diretta, speciale elezioni, che andrà in onda alle 23 di domenica e poi dopo una brevissima interruzione, giusto il tempo per riprendere fiato, dalle 7 del mattino di lunedì prossimo, quindi tutti i risultati con ospiti in studio, interviste, collegamenti esterni, fino alle 14, una grande, grande maratona televisiva. Restate con noi subito dopo, ovviamente, il telegiornale. Vogliamo dire, Pietro, i nostri telespettatori, che saremo già dalla nottata di domenica in collegamento anche da Cosenza? Sì, assolutamente sì, perché avremo ovviamente il nostro quartier generale qui in studio, sin dalle 23, poi con il collegamento con la sala stampa del comune di Cosenza e con le strade di Cosenza, con le segreterie di Cosenza, ma anche di Crotone e di altri centri importanti, chiamate al voto, alcuni al di sopra dei 10.000 abitanti e poi ovviamente cercheremo sin dal corso della notte, insomma, di dare notizie riguardo i primi sindaci eletti. Ovviamente i comuni più piccoli saranno certamente quelli che vedranno la chiusura dei seggi in anticipo. Poi tutta la grande maratona si dipanerà, ecco, tra l'alba e il mezzogiorno di fuoco caldissimo che si annuncia per lunedì, lunedì 6 giugno. Sì, grazie Pietro, la nostra macchina organizzativa naturalmente si è già messa in moto. A proposito delle amministrative, saranno resi noti nel pomeriggio gli esiti del lavoro della Commissione Antimafia su candidature e liste appunto dell'antimafia che in qualche modo sono state passate sotto la lente di ingrandimento. Per quanto riguarda la Calabria, attenzionati i comuni di San Sostene, Ioppolo, Badolato, Sant'Oreste, Sant'Oreste a Roma, San Luca, Ricadi e poi abbiamo ancora Scalea, Alto Tirreno, Cosentino, insomma si è data di comuni che nel corso degli ultimi anni, mesi, sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Parliamo adesso di una nuova trasmissione in onda sulla C, una trasmissione condotta dal noto masmediologo Klaus Davi. Purtroppo dobbiamo rendervi conto e lo faremo con il prossimo servizio di una vile aggressione che ha interessato la troupe. Stava girando un servizio a Filadelfia in provincia di Vibo Valenza e è stato appunto aggredito il collega Davi insieme con l'operatore che stava realizzando delle immagini. Vediamo. Due madri che proteggono il loro figlio. Uno è sicuramente la vittima, l'altro è probabilmente il carnefice. Angela Donato, madre di Santo Panzarella, scomparso da Coniedi Curinga nel luglio del 2012 ingoiato dalla lupara bianca a causa della sua relazione con la moglie del boss di Filadelfia Rocco Anello fatto sparire secondo le dichiarazioni del pentito Francesco Michienzi per decisione di Tommaso Anello con l'aiuto di Vincenzino e Giuseppe Fruci due personaggi contigui alla cosca. L'altra madre è Laura Anello energica mentre protegge la sua casa e l'onore del figlio Tommaso dall'incursione dei cronisti della trasmissione gli intoccabili avventandosi su Klaus Davi e la sua troupe armata di una scopa e di pessime intenzioni. Signora, perché mi aggredisce così, scusi? Io non l'ho No, signora Signora, no Il copo è vero Signora Non può tirare Non mi può tirare la scopa gliela ridò Non si arrabbi Non si arrabbi No, vai via Stiamo facendo un servizio Andiamo là Stia calma Un episodio che ha suscitato l'indignazione e la solidarietà del mondo della comunicazione e di una parte della politica riaprendo l'annoso dibattito sulla possibilità di fare libera informazione nella nostra regione Un dibattito destinato a riaccendersi E nel prossimo servizio abbiamo condensato per voi le principali notizie di cronaca della giornata Ascoltiamole insieme Due automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono stati incendiati la scorsa notte a Giri Falco Gli automezzi di proprietà del comune si trovavano parcheggiati all'interno dell'isola ecologica che si trova fuori dal centro abitato Sul posto i carabinieri di Vigili del Fuoco I due automezzi sono andati completamente distrutti Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero di origine dolosa I carabinieri hanno visionato anche i filmati di alcune telecamere di sicurezza presenti in zona La Guardia di Finanza ha eseguito 242 decreti di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 2,1 milioni di euro a carico di persone indagate per avere indebitamente intascato indennità di accompagnamento previdenziali e assistenziali I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura l'operazione che ha portato alla luce la truffa ai danni del sistema previdenziale e assistenziale denominata Easy Allowance 2 ha consentito di apporre i sigilli a beni mobili e immobili disponibilità finanziarie e quoti societarie un detenuto un detenuto del reparto psichiatrico del carcere di Reggio Calabria ha aggredito un agente provocandogli una frattura alla mano destra a denunciare l'episodio sono il segretario generale del sindacato autonomo Sappe Donato Capece e il segretario generale aggiunto Giovanni Battista Durante i medici sostengono hanno assegnato all'agente una prognosi di 30 giorni ma è forte il rischio che debba essere operato sulla vicenda interviene anche il segretario nazionale del Sappe Damiano Bellucci in Calabria dice nel corso del 2015 ci sono state 117 collutazioni 13 ferimenti e 7 tentativi di omicidio Cristina Giannuzzi per l'AC News 24 Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte si chiamavano così i due netturbini vittime innocenti di mafia assassinati a Stambiase nell'Ametino nel 1991 adesso a ricordare la loro storia c'è un premio era il 24 maggio del 1991 quando a Stambiase venivano uccisi Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte nel turbini in servizio per il comune di Lamezia Terme un delitto rimasto senza giustizia ma i due uomini ogni anno vengono ricordati in diverse manifestazioni a loro intitolate l'ultima in ordine di tempo è il premio organizzato dal coordinamento di Libera Catanzaro il premio è andato a Rosaria Angheloni dell'Università di Pisa con la tesi sullo scioglimento delle amministrazioni comunali e provinciali e applicazione della legge 221 del 91 dopo 25 anni la ferita è ancora aperta noi ci auguriamo e speriamo veramente che stia arrivando il momento nel quale si possa definitivamente squarciare quel velo di tenebre che non riescono a far capire cosa c'era dietro al di là di tutto ciò che noi supponiamo gli appalti dell'antezza urbana il tentativo della criminalità della mafia di mandare un messaggio forte che quella era cosa loro noi speriamo veramente che presto mandanti esecutori siano assicurati alla giustizia a memoria di quello che è accaduto deve essere necessariamente trasformato in radici per un impegno attuale per un impegno sempre costante nel sangue di chi non c'è più noi dobbiamo trovare la linfa che ci deve mandare continuamente avanti nella costruzione di un mondo diverso alla cerimonia di premiazione presso la sala tricolore della prefettura di Catanzaro erano presenti tra gli altri parenti di Cristiano e Tramonte visibilmente commossi Simona Dallachiesa e il prefetto Luisa Latella Rossella Galati per la Cineuse 24 bene a questo punto alleggeriamo decisamente il tono del nostro giornale lo facciamo mostrandovi le suggestive immagini che si riferiscono alla infiorata di Potenzoni piccolo centro in provincia di Vivo Valencia una manifestazione alla quale anche quest'anno hanno partecipato migliaia e migliaia di visitatori coloratissimi tappeti di fiori hanno accompagnato il cammino del Corpus Domini sentiamo una tradizione che si rinnova ogni anno in occasione del Corpus Domini e che vede la comunità cristiana di Potenzoni piccola frazione di Briatico nel Libonese impegnata in un coloratissimo allestimento in onore del Santissimo Sacramento portato in processione tra le stradine del paese e così dopo giorni di preparazione si dà vita a vere e proprie opere d'arte realizzate con i petali dei fiori domenica scorsa le caratteristiche viuzze del piccolo borgo hanno fatto da cornice alle rappresentazioni sacre immagini religiose e scene tratte dalla Bibbia tappeti floreali composti dagli abitanti dei quattro rioni di Potenzoni torre glicine agave e chiesa un meccanismo perfetto che coinvolge bambini adulti e anziani ciascuno nel proprio piccolo contribuisce ad accrescere e impreziosire una manifestazione ormai storicizzata frutto del lavoro manuale ed economico di Potenzoni e anche quest'anno l'infiorata ha richiamato visitatori da tutta la Calabria che hanno ammirato le singolari opere d'arte sacra oltre all'aspetto religioso l'infiorata prevede una sezione concorso con la premiazione dei tappeti più belli a valutarli una giuria composta da esperti d'arte una competizione nel segno della fede così padre Luigi scordamaglia ai microfoni di Angelo De Luca tutto quello che facciamo lo facciamo proprio per solenizzare il passaggio del Signore Gesù per le vie del nostro paese al di là della competizione al di là di tutto ciò che ruota intorno all'evento infiorata ciò che è fondamentale per noi proprio il discorso della fede in Cristo Gesù Cristina Iannuzzi per la CNews 24 e l'auspicio che esprimiamo è che una manifestazione così bella e toccante possa presto superare i meri confini regionali la pagina del giornale ora dedicata agli spettacoli con il ventennale della manifestazione di moda che si chiama appunto Moda Movie San Teorrico patron di Moda Movie ventesima edizione intanto un progetto complesso il tema dell'anno e le novità soprattutto che ogni anno porta a Moda Movie il tema dell'anno è questa ventesima edizione nel presente quindi trattiamo un po' di tutto è molto ambizioso devo dire i ragazzi sono stati bravi quindi sono arrivati i 114 progetti oggi abbiamo portato 20 in finale che sfileranno il 5 di giugno prossimo al Teatro Rendano quindi lì si concluderà il progetto le novità sono tante sono il ritorno il nostro conterraneo Gerardo Sacco Gerardo Sacco ha fatto la prima edizione di Moda Movie con Raffaella Curiel quindi abbiamo Raffaella Curiel che per me è l'Umbruz Ultra dell'alta moda non solo italiana ma internazionale perché lei non ci sono state location al mondo che lei non sia stata Moda Movie è ormai conosciuta in Calabria a Cosenza ma soprattutto tutta l'Italia conosce Moda Movie perché? perché questo fatto culturale della moda del cinema noi lo dobbiamo accelerare dobbiamo creare la filiera vera in Calabria in Calabria si può fare tutto si può fare ginestre si può fare cotone si può fare cose bellissime grandissime quindi cominciamo a fare qualcosa sono qui ad aspettare io ho fatto la parte mia ho fatto 20 anni quindi sono felice l'associazione italiana degli allenatori di calcio della Calabria ha deciso di fare dono ad alcune scuole della provincia di Catanzaro di alcuni defibrillatori sentiamo è stato Renzo Olivieri presidente nazionale dell'Aiac associazione italiana allenatori calcio che quest'anno festeggia 50 anni dalla fondazione a consegnare ai tre istituti scolastici di Guardavalle Santa Caterina e Badolato tre defibrillatori acquistati anche grazie al ricavato del triangolare svoltosi lo scorso 31 marzo un defibrillatore per la vita e al sostegno dell'amministrazione provinciale di Catanzaro nonché a un piccolo ma importante contributo del comune di Guardavalle è una ripartenza perché se dovessimo fermarsi a quelli che sono stati i successi a questi anni 50 a questi 50 anni di vita e anche in successi a dire la verità perché non è che abbiamo fatto tutto bene sport e impegno sociale è questo il binomio che l'Ajac sta portando avanti in tutta Italia e anche la sezione calabrese presieduta da Raffaele Pilato sta operando in tal senso questa era la manifestazione conclusiva quella regionale per promuovere la nostra associazione sul territorio ne abbiamo fatte una ogni provincia della Calabria questa era quella che raccoglieva un po' tutte le iniziative altro gradito ospite della manifestazione il direttore sportivo del Crotone Calcio noi partecipiamo sempre a queste iniziative io sono voluto venire personalmente siamo molto contenti per quanto riguarda poi il Crotone penso che abbiamo fatto una grandissima cosa non solo per Crotone ma per tutta la Calabria Rossella Galati per la Cineuse 24 apriamo la pagina del giornale dedicata al calcio lo facciamo dalla Lega Pro e dalle novità principali che accompagneranno la prossima stagione scopriamole insieme è stata la prima assemblea di Lega sul campionato che verrà parole tante decisioni poche riunione più che altro interlocutori a Firenze tra tutti i club che comporranno la prossima Serie C ecco la prima notizia ufficiale proprio legata al nome si torna al passato non più Lega Pro la terza serie nazionale si tornerà a chiamare Serie C appunto denominazione vintage organizzazione nel segno dell'innovazione il numero 1 di Lega Gravina ha espresso il suo desiderio di tornare a 60 squadre 20 per ogni girone ma anche questa è una decisione che verrà messa ai voti nella prossima riunione al pari della novità assoluta di allargare playoff a 10 squadre già deciso invece il destino delle famigerate squadre B al momento sono escluse possibile un loro ingresso nei prossimi anni scartata anche l'ipotesi di dividere i gironi in maniera verticale buona notizia soprattutto per i club che in caso contrario avrebbero dovuto prevedere un maggior budget per le trasferte come accadde con risultati pessimi già nel 2011 già presentata la novità legata ai diritti tv somma che verrà fuori dagli introiti incassati dalla vendita dei tre pacchetti strutturati ed organizzati da sportube il canale esclusivista di tutte le partite di terza serie gli utenti potranno scegliere fra tre tipologie differenti trasferta squadra per vedere tutte le partite in trasferta di una singola squadra singola squadra per vedere tutte le partite in casa e in trasferta di una singola squadra e singola partita per vedere una sola partita il 40% dei proventi sarà uguale per tutti il 5% dipenderà dal bacino d'utenza e l'altro 5% deriverà dai risultati sportivi il restante 50% invece andrà alla società a cui la Lega ha ceduto i diritti Alessio Bonpasso per la Cineus 24 Il Catanzaro non è in vendita parole queste di Pino Cosentino presidente del club giallorosso ascoltiamolo Catanzaro in vendita ma che anzi neanche per sogno parola del patron giallorosso Giuseppe Cosentino il numero 1 dell'US spazza via una volta per tutte le voci legata ad una possibile cessione della società il club dai tre colli resta e resterà saldamente nelle mani della famiglia Cosentino almeno per ora almeno per la prossima stagione quelle in cui parola del presidente il Catanzaro ritornerà a recitare un ruolo da protagonista per riconquistare i palcoscenici all'altezza della sua storia punto anzi punto esclamativo nelle mani della DS Prete in quelle del tecnico R la licenza di uccidere si fa per dire sui tavoli del mercato dopo i primi colpi assestati tra nuovi arrivi e conferme il Catanzaro è pronto ad incastonare qualche tassello nel mosaico che formerà il parco giovani giocatori da valorizzare il primo nome in lista è quello di Mirko Esposito esterno di difesa di proprietà del Crotone nell'ultima stagione a Pagani con la maglia della Paganese operazione che Praiti avrebbe già praticamente chiuso con il club pitagorico che potrebbe girare ai cugini gelorossi un altro paio di fuori quota di belle speranze che non troverebbero spazio in prima squadra Alessio Bonpasso per la Cineus 24 Dal calcio al volley e anche in questo caso le grandi manovre non mancano Il presidente Matozzo non vuole perdere tempo il numero uno del soverato volley ha presentato ufficialmente il progetto ionico per la stagione targata 2016-2017 programmi ambiziosi nuove proposte per riportare la squadra ai massimi livelli soprattutto in vista del tanto atteso ripescaggio tracciata la strada e sottolineate le priorità societarie su tutto il palascoppa avere una struttura all'altezza del prossimo campionato si spera in a uno è l'obiettivo numero uno poi tutto il resto a partire dal tecnico ancora nessuna novità su chi sarà la guida della squadra il prossimo anno molto dipenderà infatti dalla categoria d'appartenenza Matozzo ha più volte espresso un giudizio positivo su coach Secchi che nella stagione conclusa ha regalato grandi soddisfazioni ma non si escludono colpi di scena e a vivo all'indomani dalla dio ufficiale di coach Mastrangelo pronto a ritornare nella sua Puglia sulla panchina di Alessano la società giallorossa sta lavorando i primi colpi di mercato per costruire la squadra che verrà in attesa della wildcard che potrebbe riaprire alla Callipo le porte dell'Olimpo del Volley spuntano i primi nomi che potrebbero succedere al tecnico pugliese tre in particolare quelli graditi ai massimi dirigenti vibonesi nel cerchio rientrerebbero infatti Camillo Placi ex del Latina Emanuele Zanini e Paolo Montagnani ex del Molfetta anche se da quelle parti nelle ultimissime ore pare sia tornato di moda un tecnico già protagonista sulla panchina giallorossa qualche anno fa ma questo è un altro capitolo da Vibo Valencia per la Cinews 24 E chiudiamo questa edizione del giornale con il basket Antonio Paternoster come del resto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi e il nuovo coach della Viola ve lo facciamo conoscere con il prossimo servizio Manca solo il comunicato della società ma la notizia presenta già i crismi dell'ufficialità Antonio Paternoster è il nuovo allenatore della Viola Reggio Calabria autore del miracolo Agropoli nella scorsa stagione con un roster che eccezione fatta per il centro italo-canadese Mark Trasolini non brillava per talento ha dominato parte della stagione regolare e si è fermato ai play-off uscendo contro l'attuale semifinalista Fortitudo Bologna il giovane tecnico Campano non è un volto nuovo a Reggio nel 2008 all'enon Laudax società scomparsa allora in Serie C nazionale un crescendo per Antonio Paternoster che però ha ancora molti dubbi su quali giocatori avrà a disposizione paiono certe le conferme di Lupus o Rerrullo e la Viola si muove sul pacchetto esterni torna alla ribalta un nome che monopolizzò il mercato dell'anno scorso Roberto Marulli play classe 91 ha giocato a Roseto la scorsa stagione ed è una vecchia conoscenza di coach Paternoster lo vediamo qui con la maglia di Agropoli due anni fa per il pacchetto guardie spunta una vecchia conoscenza secondo gli ultimi rumors a Reggio potrebbe far ritorno Moe De Lodge protagonista in nero-arancio nella stagione 2014-2015 e reduce da una buona annata a Ravenna Francesco Creazzo per la Cineus 24 Allora è davvero tutto non ci sono aggiornamenti mi fermo qui vi ringrazio per l'attenzione ma rimanete con noi perché dopo la sigla ed una breve pausa pubblicitaria c'è una nuova puntata dei Fatti in diretta con Pietro Comito e tanti ospiti titolo della puntata odierna l'altra cosenza arrivederci Visita il sito www.lacineus24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie Dal 30 maggio le edizioni della Cineus 24 cambiano orari alle 14 alle 19 e 30 e alle 24 i calabresi sono informati a presto a presto